Un saluto a tutti da Carmela Creziato e bentrovati all'ascolto di Radio Speranza. Oggi la nostra rubrica di informazione riguarderà lo sport. E impazza la banana mania contro il razzismo. Giocatori e staff della pallacanestro teatre prima dell'allenamento si sono fatti fotografare mentre mangiavano banane, aderendo così alla campagna contro il razzismo avviata dal gesto del calciatore del Barcellona, Dani Alves, dello stadio del Villareal. Un gesto simpolico contro la discriminazione razziale in appoggio all'atleta di colore dei catalani, al quale nel corso del match di campionato tra il Barcellona e il Villareal, dagli spalti era stata lanciata una banana accompagnata da diversi. pesanti, insulti razzisti. Il patron del Torino Urbano Cairo, l'attaccante Granata Ciro Immobile, l'allenatore della Roma Rudy Garcia, a Chieti per il dodicesimo premio Prisco. Ha la lealtà, correttezza e simpatia sportiva. Sono i vincitori nelle categorie miglior presidente, giocatore e allenatore. La cerimonia si è tenuta al Teatro Marruccino. Ottimo risultato per il giovane pilota Quilano Francesco Testardi Junior. A soli nove anni ha brillato tra i più forti presso il circuito internazionale di Cervia, facendo un settimo posto alle prove cronometrate e conquistando il quinto posto in gara, salendo così sul podio per la prima volta e portando a casa il primo trofeo nazionale della sua carriera. Il baby driver dedica questo grande risultato al suo capo meccanico Lorenzo della scuderia FG Racing, che nei giorni precedenti alla gara ha lavorato fino a notte fonda per creare un setup impeccabile al suo kart al fine di renderlo competitivo in ogni settore del circuito. E giovedì, primo maggio, si è svolta al campo imperatore la Coppa Bariloca, il trofeo Lui e Lei, la tradizionale gara di gigante parallelo a coppie. Alla manifestazione hanno gareggiato, in coppia con i maestri di sci, anche alcuni attori del gruppo Sciattori e Co. dello Sci Club Roma, partner di iSIM. Per il premio abbinato Prendimi Sono Famoso, erano presenti Roberto Ciufoli, Simone Colombari e Fabio Ferrari. I proventi delle iscrizioni sono stati devoluti per iniziative di beneficenza da realizzare all'Aquila e a Bariloche, a seguito del recente gemellaggio tra le due città. La manifestazione è stata organizzata dallo Sci Club di Astergi e dalla Scuola Sci del Gran Sasso, oltre che dallo Sci Club di Roma. Il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ha accolto con entusiasmo la Nazionale di Calcio a 5, che si è laureata campione d'Europa, battendo la Russia nel febbraio scorso ad Ambersa. Il presidente del Consiglio ha salutato i componenti della squadra, che gli hanno mostrato il trofeo continentale e donato un pallone con le loro firme, con il quale il premier si è esibito in qualche palleggio nel cortile di Palazzo Chigi. In mattinata l'Italia del Fussan era stata festeggiata la Casa del Cinema di Roma. Tanto entusiasmo, la Coppa in bella mostra è avvolto nel tricolore anche Salvatore, il bimbo inquadrato più volte dalle telecamere nella finale con la Russia, diventato il simbolo del successo della Nazionale italiana all'europeo. E passiamo ora al tennis. Sulla terra di Oeiras, la tennista tarantina Roberta Vinci, testa di serie numero 4, ha impiegato appena 50 minuti per battere la belga Janina Wickmayer, numero 58 al mondo, con un punteggio di 6 a 0 e 6 a 2 senza mai perdere il servizio e concedendo appena 4 palle break. Al primo turno l'Azzurra aveva battuto con il punteggio di 6 a 2, 4 a 6 e 6 a 1 la romena Cadantu, numero 76 del ranking. A 20 anni dalla scomparsa di Senna, il presidente del cavallino ricorda il brasiliano, svelando un aneddoto. Lui voleva la Ferrari e io lo volevo in squadra, ci incontrammo prima del GP di Imola e concordammo che per entrambi sarebbe stato un suggello. Di lui ricorderò sempre la gentilezza, quasi in contrasto con lo spirito combattivo che aveva in gara. In pallamano maschile, serie A2, l'HC Pescara perde la sfida salvezza sul campo della Tellana e retrocede in serie B maschile. Questo l'esito dell'ultimo incontro della pool retrocessione in A2 di pallamano. La compagine del presidente Nardinocchi si è arresa 29 a 21 con i campani, che in classifica staccano di 4 lunghezze, 11 contro 7, proprio pescaresi. Dopo soltanto una stagione, dunque, la giovane compagine di mister, Di Valerio, torna in serie B. Paolo Nicolai è entrato di diritto nella storia del beachvolley italiano. Mai in passato, una coppia azzurra aveva vinto una tappa del World Tour, una sorta di campionato del mondo itinerante. Il 25enne ortonese, con il romano Daniele Lupo, ci è riuscito. E sabato scorso è salito sul gradino più alto del podio, a Fuzzu, la capitale della provincia cinese del Fujian. Una città con oltre 6,6 milioni di abitanti. Un trioffo che rappresenta l'ennesima tappa di un percorso di crescita. Nel 2013, Nicolai e Lupo hanno chiuso al terzo posto nella classifica generale del World Tour. Giulia Monaco, 16 anni, studentessa del quinto ginnazio del liceo classico Tortonia di Avezzano, ha vinto il concorso ippico, categoria a 5 stelle ad Atina Frosinone, aggiudicandosi la gara nella categoria 80 e B90. La giovane cavallerizza marsicana ha sbaragliato il campo, battendo complessivamente 50 agguerrite avversarie. Questa vittoria la qualificata per i campionati centro-meridionali, che si concluderanno domani 4 maggio, sempre ad Atina. Giulia si allena nella scuderia I Mandorli, sotto la guida della campionessa italiana Belia Angelini, in forza alla polizia penitenziaria. E passiamo ora alla palla nuoto. L'Original Marins Pescara vince 10 a 5 contro la Basilicata 2000 e riconquista la prima posizione in classifica del girone 3 del campionato di serie B, maschile di palla nuoto. La Quavio, diretta concorrente per la prima posizione, osservava un turno di riposo. Alle Naia di l'Original Marins Pescara impone il suo gioco e non lascia spazi agli avversari, soddisfatto della prestazione il tecnico Maurizio Gobbi. E con questo è tutto, vi ringrazio per l'ascolto. Un cordiale saluto da Carmela Creziato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.